La pandemia è stata traumatica per l'Europa e per il resto del mondo. Sarà una parte formante, formativa delle nostre vite per tante parti della società e come per ogni trauma dovremo trovare il modo di parlarne se vogliamo andare oltre. E non c'è modo migliore di farlo che offrendo una prospettiva, la speranza, la possibilità di cambiare per il meglio. Ecco perché credo che questo sia un momento così importante per i giovani in particolare per far sentire la loro voce. Questa pandemia ha rubato ai giovani più di un anno della loro vita. Gli ha rubato esperienze, emozioni, quelle emozioni e quelle esperienze di cui ogni giovane ha bisogno. Ha rubato loro le amicizie, il divertimento che formano le persone per sempre. Ha rubato a loro le opportunità di crescere, di imparare, di correre i rischi. Ma soprattutto ha reso tante persone, giovani e meno giovani, ansiose, solitarie, meno sicure, meno in controllo delle loro vite e del loro futuro. Per la prima volta in una generazione, molti si preoccupano che i propri figli non avranno un migliore futuro di loro. Questo dimostra che è necessaria una nuova forma di solidarietà e di giustizia sociale tra le generazioni. Si tratta di giustizia e di diritti, non soltanto all'interno della società di oggi, ma anche a livello intergenerazionale. Ecco perché la più recente giurisprudenza in tanti Stati membri, in merito alla responsabilità di affrontare il problema del nostro sfruttamento selvaggio, della natura e dell'ambiente, per affrontarlo in modo sostenibile e concreto, è così importante. Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che non possiamo risarcire i giovani del tempo che è stato loro rubato, ma che questa può essere l'occasione per costruire qualcosa di meglio, di più equo, di più giusto. E dobbiamo agire affinché i giovani possano avere un ruolo centrale in questo cambiamento. È un compito immane. Paradossalmente deve cambiare tanto perché tutto rimanga così come è necessario per la vita. Devono cambiare cose fondamentali affinché anche la prossima generazione possa continuare a vivere circondata dalla natura. Noi dobbiamo cambiare noi stessi affinché i nostri nipoti possano continuare a vivere la primavera, l'estate, l'inverno, l'autunno. I cambiamenti veri non possono essere imposti dalle sentenze dei tribunali, ma soltanto tramite la politica possono essere realizzati. Per questo credo che la conferenza debba essere un'occasione per un dialogo strutturato, vero, tra le generazioni. Su quella che deve essere la base per la nostra vita futuro. La posta in gioco è la stessa del 1950, quando Schumann presentò la sua dichiarazione. Allora, avendo presente la distruzione dovuta alla guerra, al conflitto, ma non illudiamoci, la posta in gioco oggi è la stessa, perché il cambiamento climatico può assolutamente avere la stessa forza distruttiva di una guerra.